A Teramo è stata approvata la delibera per un nuovo piano asfalti del comune, con un impegno di spese di circa 728 mila euro che interesserà sia il centro cittadino che le frazioni. Un intervento che mira a ridare sicurezza e decorre le strade cittadine e frazionali e a garantire la percorribilità. Dunque si attende un giugno caldo in città sul fronte dei lavori. Tra gli interventi previsti ci sono la messa in posa di un asfalto stampato per la piazzetta del sole, nuovi manti stradali nel centro storico e cambio di location per la storica edicola di Sant'Antonio. Un investimento importante, ancora insufficiente, ma intanto proseguiamo su quel cammino che mira a sistemare e dare una sistemazione a tutte le strade cittadine e frazionali. Quindi, somma ancora insufficiente, ma siamo sulla buona strada. Immaginiamo il proseguire anche con un secondo piano asfalti da provare prima possibile per cercare veramente di risistemare tutte le strade cittadine e frazionali. È un fatto importante, ce lo chiedono i cittadini, ma è una questione di sicurezza e di decoro dell'intera città e dell'intera territorio comunale. Lavori che dovrebbero iniziare quando e da dove si partirà? Beh, diciamo, abbiamo separato i lotti proprio per accelerare i lavori. Sono previsti tre lotti. Lotto che interessa la città, capoluogo, e poi un lotto che interessa le frazioni. E poi c'è un terzo lotto, un importo ridotto, che prevede l'asfalto stampato in via Piazzetta del Sole. In Piazzetta del Sole, come avevamo detto, il circuito di Piazzetta del Sole, vogliamo cercare di dare decoro e bellezza a quel luogo. E' un intervento innovativo, quello dell'asfalto stampato, che poi magari, se dovesse andare a Bonvine, veramente vale la pena di poter intervenire poi in altre cende della città, soprattutto nel centro storico, magari dare seguito a questo tipo di intervento. Grazie.